Operazione antidroga della squadra mobile della questura di Rimini che ha arrestato un campano di 53 anni per detenzione e spaccio di oltre un chilo di hashish. All'uomo gli agenti della squadra mobile sono arrivati dopo un'attività di osservazione e appostamento che è durata alcuni giorni e che ha interessato anche diverse vie del centro di Rimini. I poliziotti lo hanno individuato che gestiva in zona l'attività di spaccio e hanno anche ricostruito tutte le fasi relative all'attività illecita. Dopo aver raccolto elementi sufficienti, gli uomini della mobile hanno bloccato il 53enne e hanno anche perquisito il locale utilizzato per tenere la droga. All'interno la polizia ha trovato l'hashish diviso in 11 tavolette. I poliziotti oltre alla droga hanno anche sequestrato il materiale usato per il confezionamento, oltre a denaro contante. L'uomo è stato posto agli arresi domiciliari.